Mi chiamo Alexandre Geran, sono padre di cinque figli. Ho scoperto per caso un mese fa che padre Preina è tornato nella regione di Leone, come prima. Ti ha visto? Sì, lo so. Perché quest'uomo è ancora a contatto con i bambini? Quello che mi aspetta è una sanzione della chiesa nei suoi confronti. Sarò chiaro con lei. Padre Preina resterà sempre prete. Ci sono altre vittime che potrebbero testimoniare? Ce ne sono di sicuro. Ho sempre aspettato questo momento, che potessi finalmente raccontare tutto anch'io. Sì, è importante. Vuole sporgere denuncia contro Bernard Preina? Sì, sporgo denuncia. Ci troviamo di fronte a fatti passati e grazie a Dio questi fatti sono prescritti. Si rende conto della violenza di quanto ha appena detto? Grazie a Dio vuol dire per fortuna. Volevo dirvi che non lo faccio contro la chiesa, ma per la chiesa. Perché fai tutto questo, papà? Perché quello che ho subito non accada più. Se vi succede qualcosa, ora sapete che non dovete aver paura di parlare. Sapete quelli grandissimi attori non hanno mai ricevuto nemmeno un Oscar? Jim Carrey, ad esempio, attore davvero unico. mai neanche una nomination. Johnny Depp, nonostante varie nomination, non ha mai vinto. Bill Murray, un altro nome che vi posso fare, ha avuto solo una nomination per Lost in Translation. E Joaquin Phoenix, attore veramente eccezionale. Mai niente. Però c'è tempo e non disperiamo. Ragazzi, ci trovate anche su TikTok, trovate il link qui sotto in info box. A presto.